Ciao, questo è quello che avverrebbe normalmente. Apriamo l'acqua calda e lo scaldino si accende, cioè accende la fiamma. Nel tuo caso, lo scaldino non ti parte, posso darti qualche consiglio sperando che tu possa risolvere. Allora, ti devo spiegare brevemente come funziona questo tipo di scaldino Violent, che è anche similare a alcuni modelli Bosch e Junkers. Quindi, ritorniamo sempre alla mia alta tecnologia. Questa è l'immagine dello scaldino e questa è l'immagine che ho creato io. Ecco qui, provo a fare tutto con una mano come sempre. Allora, questa è la schedina elettronica col pulsante centrale. Questa qua è la parte centrale, che è la valvola gas, dove c'è anche la manopola che si mette quando riposizioniamo la carcassa. Questo è invece il gruppetto acqua, che sta a destra, che anche questo ha la manopola per regolare il flusso dell'acqua. E al loro centro, diciamo, c'è questo microinterruttore, che è quell'oggetto del video di cui parliamo oggi. Questo in effetti non è un microinterruttore con due fili collegati. Uno e due, dopo te li faccio vedere. E c'è questa asticella che si deve muovere da sinistra a destra. Sostanzialmente, quando apriamo l'acqua, qua dentro c'è una membrana che viene spostata per la pressione dell'acqua, e sposta questo pistoncino sottile, che a sua volta è poggiato su questo pistoncino più doppio, che è collegato alla valvola gas. Qui in mezzo non c'è passaggio d'acqua, l'acqua passa solo qui. La valvola gas si apre quando preme questo pistoncino. Più viene premuto, più passa gas. Quindi, l'acqua si apre, il pistoncino spinge il microinterruttore, fa accendere la fiamma, cioè la scintilla, e poi di conseguenza arriva il gas perché viene spinto anche questo, che aprirà del gas. Diciamo, come se fosse un condotto, e qui passa il gas. Quando viene premuto qui, più si preme, più passa gas. Chiaramente anche la pressione dell'acqua può variare. Se abbiamo un flusso troppo basso, questo pistoncino si aprirà lentamente, e a volte stenta a far partire il microinterruttore, e quindi fa partire anche poco gas. Quindi ha bisogno di una buona portata d'acqua e buona pressione. Quindi nel tempo la serpentina dello scaldino si può intasare di calcare, fa passare meno acqua, c'è meno pressione, tra l'altro sto buttando lì per farti capire, questo pistoncino stenta ad uscire fuori. Oppure la membrana al suo interno si è rotta, e quindi non subisce la pressione, perché è rotta, e quindi questo qui non spinge bene o non spinge per nulla. Inoltre ci sono anche casi in cui l'impianto di casa ha le tubazioni ostruite, quindi anche in quel caso l'acqua passa piano e non apre bene la membrana, non spinge bene questo, di conseguenza non apre questo e non spinge questo. Spero di averti fatto capire. Nel questo video ti faccio vedere che questo gas è proprio il microinterruttore che viene premuto, che si vede il movimento, te l'ho fatto vedere prima, ci ritorniamo, e questo qui non attiva al suo interno questo microinterruttore, quindi non unisce i due fili. Infatti adesso ti faccio vedere come possiamo essere sicuri che è questo a non funzionare. Prendi il microchip centrale, non lo devi prendere, diciamo, parti da lì e vedi quei due fili arancioni qui sulla destra. Segui i due fili, li puoi tagliare in un punto centrale, solo per fare una prova. Non ti preoccupare, non c'è corrente perché c'è solo un voltaggio di 1,5 come le pile torcia che lo vanno ad alimentare. Ecco qui, prendiamo i due fili. Ecco, hai visto che unendo i due fili ha fatto la scintilla, anche se non si è acceso lo scaldino non è importante. È importante capire che ha fatto la scintilla, quindi vuol dire che non è un problema di cavi o di scheda elettronica, ma è soltanto l'interruttore, microinterruttore, dell'oggetto di cui stiamo parlando, che non manda il segnale, quindi non unisce i due fili nel momento in cui viene aperto l'acqua. Quindi bisogna cambiare questo microinterruttore. Ecco, quindi prendiamo il nuovo microinterruttore della Violent. A questo punto possiamo poi staccare il connettore dalla scheda elettronica e ricolleghiamo questo qui perché è completo. I due fili tagliati li possiamo togliere. Allora, dobbiamo prima togliere il vecchio. Chiaramente per togliere il vecchio ci sono due viti da svitare. Uno è qua, con un giravite a stella, a croce, e un altro è qua. Svitiamo i due viti, tiriamo via il microinterruttore vecchio. Prendiamo il luogo e facciamolo andare da destra verso sinistra perché in effetti quella linguetta deve andare sul pistoncino di destra, quello più sottile. Ecco, quindi da destra verso sinistra. Deve aderire bene dove poi andremo a mettere di nuovo le due viti. Se vediamo che in partenza rimane bloccata l'accensione, dobbiamo smontarlo e rimontarlo di nuovo. Bisogna perderci un attimo di tempo, ma si trova facilmente il punto giusto. Un'ultima cosa, in effetti mi hanno chiesto spesso la luce rossa e la luce blu. Allora, quando si accende c'è questa luce qui che diventa blu. Quindi vuol dire che sta funzionando, a volte è verde, vuol dire che la fiamma è accesa e sta funzionando regolarmente. Se è rossa vuol dire che è andata in blocco oppure ha le pile scariche. Ciao, alla prossima. www.moccaclima.com Il mio sito internet è dinamico, molto interessante. Dagli un'occhiata, trovi tutti i codici di errore caldaie, tutti i codici di errore condizionatori, manuale d'uso di tutte le caldaie e la sezione fai da te, molto interessante, che in realtà è un blog dove ogni settimana aggiungo articoli e li aggiorno su tanti argomenti molto interessanti. Quindi dagli un'occhiata e fammi sapere cosa ne pensi.